Il sindaco di Pineto, Robert Verrocchio, nella giornata di ieri ha firmato in via precauzionale l'ordinanza che vieta la balneazione in un tratto di mare a Scerne. Questa mattina le analisi effettuate dal comune hanno visto però scendere il valore che aveva fatto scattare l'allarme. Ma prima di annullare l'ordinanza di divieto il comune ha deciso di attendere le analisi effettuate da parte dell'Arta. Praticamente due giorni fa in seguito ad un blocco delle cabine, ad un guasto importante nella zona di Scerne c'è stato per qualche ora qualche disservizio in alcune pompe di sollevamento. All'indomani in modo precauzionale e in accordo con Russo abbiamo deciso di commissionare dei prelievi sulle acque. Ma proprio appunto per essere sicuri perché comunque sono delle pompe di sollevamento che sono posizionate vicino alla costa. Ieri sono tornati i risultati, erano tutti sotto ai livelli. C'è stato un solo dato anomalo che abbiamo voluto ripetere come prelievo. Ovviamente ho dovuto firmare un'ordinanza in attesa dei nuovi prelievi, dei nuovi risultati che avremo da qui a qualche ora verosimilmente. Poi insomma revocherò l'ordinanza ovviamente. Il provvedimento ricordiamo riguarda un'area di 100 metri a 150 metri a nord del canale di via Tremiti a Scerne. Ovviamente non parliamo del depuratore quindi tranquillizziamo i cittadini, parliamo di alcune pompe come ce ne sono decine e decine lungo la costa. Il Russo è intervenuto durante la notte con dei gruppi elettrogeni proprio per garantire la continuità. Ovviamente tra gli spostamenti c'è stato un momento in cui probabilmente qualche rischio di interferenza può esserci stato. Per questa ragione abbiamo voluto procedere ai prelievi. C'è una piccolissima zona che è stata interdetta alla balneazione di 100 metri dove si è riscontrato un dato anomalo. Ma ripeto, siccome c'è necessità di ripetere il dato e contestualmente abbiamo chiesto anche l'intervento dell'Arta che avverrà oggi. Ma insomma siamo fiduciosi che da qui alle prossime ore possa essere revocata l'ordinanza.